Due disgrazie sulle nevi di Val di Sotto, due uomini quasi coetanei uniti dalla stessa sorte a soltanto qualche centinaio di metri di distanza, due corpi rinvenuti nella stessa mattinata. Il primo allettramento per la stazione di Bormio del Soccorso Alpino, settima delegazione Valtellina-Valchievenna, è stato intorno alle 10 in zona San Colombano, dove due sci alpinisti avevano notato in un canalone una gamba emergere dalla neve. Sul posto l'elisoccorso di Sondrio, il personale del soccorso Piste, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico e il SACF, il Soccorso Alpino Guardia di Finanza. Si trattava del corpo senza vita in stato di ibernazione di un maestro di sci del posto, Armando Romani, di 56 anni. Neppure due ore dopo, intorno alle 11.30, altro allertamento per un uomo ungherese di 57 anni, deceduto in seguito a un malore in località Alpeggio Masucco, nei pressi delle piste di Isolaccia. I figli, vedendo lo stare male, avevano lanciato l'allarme. Anche in questo caso sono intervenuti l'elisoccorso, il soccorso Piste e le forze dell'ordine, ma nulla è stato possibile per salvare lo sciatore. Entrambi gli uomini sarebbero morti per un infarto, anche se in un primo momento ha destato più di un interrogativo il ritrovamento del cadavere di Armando Romani, poiché lo stato di ibernazione del maestro di sci, l'assenza del quale non era stata segnalata da nessuno, lasciava presumere che si trovasse nella neve da più di un giorno. E così poi si è verificato fosse davvero Romani, infatti sabato era stato a cena alla Malga San Colombano, raggiunta con le ciaspole, e sempre con le ciaspole aveva deciso di fare rientro da solo alla propria abitazione. Sulla via del ritorno il malore fatale.